Cari amici di Rai 1, ben ritrovati insieme. Il proseguo del pomeriggio ci riserva a breve Marco Liorni e Barbara Capponi con Estate in diretta. Alle 18.50 la linea passa a pino in segno per i divertenti giochi linguistici del game show Reazione a Catena. Alle 20 il Tg1 ci aggiornerà come ogni giorno sulle ultime notizie, poi via le memorabili scene televisive di Tec e Tec e Tec, vista la rivista. Alle 21.15 da non perdere l'appuntamento con i gialli della prima visione Rai. Last Cop, l'ultimo sberro. Il poliziotto protagonista interpretato da Henning Baum dà la caccia agli spietati assassini che hanno colpito un uomo che lavorava in un asilo e poi una donna che cercava l'incontro della sua vita. Per i minori la visione del programma è data insieme a un adulto. Inoltre vi segnalo in onda alle 23.05 i nostri angeli 2013, premio giornalistico Marco Lucchetta. Questa sera allora da non perdere alle 21.15 le indagini ad alto rischio del telefilm Last Cop, l'ultimo sberro. Buona visione e a più tardi.